Buongiorno a tutti. Buongiorno a tre. Mirna, un caffè figliolo? Sì grazie. Devi partire? A che ora ci sarà l'aereo? Televideo Rai soddisfa subito la tua esigenza. Sull'indice generale seleziona l'argomento aerei pagina 550. Televideo ti dice anche se l'aeroporto è agibile. Questo non è che un esempio dell'utilità di Televideo Rai. Con il tuo telecomando sfoglia Televideo Rai. Migliaia di pagine piene di informazioni, notizie continuamente aggiornate per un programma che puoi costruire secondo le tue esigenze o le tue curiosità. I televisori idonei a ricevere Televideo Rai sono in vendita in tutti i negozi. Televideo è un servizio completamente gratuito della Rai in onda ogni giorno dalle 8 alle 24 su Rai 1 e Rai 2. Televideo Rai, la tv da sfogliare.